in aria, purtroppo c'è stato un piccolo problema, alcuni treni pieni di gente si sono guastati sono arrivati pure ai nostri farelli che si sono guastati, non dobbiamo avere nessun risentimento perché succede questo, ora però siamo arrivati a un punto dove bisogna dire cosa si fa domani quindi vi prego, vi prego un attimo di attenzione, abbiamo fatto, avete visto un po' dei vicissitudini Krupi che rappresenta Forconi vi ha parlato, quindi avete capito bene come stanno le cose io non aggiungo altro, basta quello che ha detto Krupi che è una persona con le palle un applauso a Krupi che ha avuto le palle di venire qui questi sono gli uomini, gli uomini sono fatti così allora signori abbiamo indetto questa iniziativa ad oltranza siamo andati in tutti i presidi e le piazze d'Italia a confermare questa cosa voi ci avete messo la faccia nei vostri vari posti italiani dicendo questa cosa non trattiamo questa classe politica, non trattiamo questo governo tutti a casa, abbiamo detto sempre questo, giusto? e gli uomini mantengono le parole Cristo, tutti a casa tutti a casa, tutti a casa, tutti a casa, tutti a casa, tutti a casa quindi, visto che abbiamo avuto molte altre richieste per presidi nuovi che vogliono partire da domani io ho consultato con alcuni di voi, ma dopo invito i coordinatori a rimanere qui decidiamo tutti insieme di continuare finché non se ne vanno di mantenere ciò che abbiamo cominciato però, però, statemi bene a sentire, siamo sotto Natale allentiamo la pressione fisica nei presidi non sciogliamo i presidi facciamo le feste natalizie rimanendo con i presidi un po' di meno non prendiamo iniziative tipo cortei, tipo manifestazioni ma appena passano le feste, se non se ne vanno inizieremo una lotta ancora più dura, più decisa e più di meno di vita i presidi restano! grazie! grazie!